La curva dei nuovi contagi Covid sembra essersi stabilizzata intorno a quota 2.000 giornalieri in Regione. I casi di positività negli ultimi 24 ore sono 2.001, ieri 1.966, un rialzo rispetto alle ultime settimane. Si registrano anche 5 decessi, lo riferisce il bollettino della Regione Veneto. Il conteggio delle infezioni dall'inizio della pandemia si aggiorna quindi a 1.767.654, quello delle vittime a 14.731. Il dato positivo riguarda i numeri ospedalieri. Sono in calo di 19 unità i malati Covid ricoverati in area medica, sono dunque 465, mentre sono 23 uno in meno quelli in terapia intensiva. Non si ferma invece la risalita degli attuali positivi, che sono 785 in più del giorno precedente e si attestano a 27.587. Non si ferma invece la risalita degli attuali positivi, che sono 785 in più del giorno precedente. Grazie. Grazie.